Mauro Pesce, l'ospite che inaugura l'edizione 2012 dei Dialoghi in Cattedrale, docente di storia delle origini cristiane all'Università di Bologna, di origini genovesi. Nel 1979 ha fondato anche l'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo. La prima domanda, professore, è questa. Che cosa l'ha spinta a interessarsi così tanto perché la ricerca continua di Cristo e del cristianesimo? Il motivo era essenzialmente una continuità con la mia tradizione cattolica, provenivo dalle scuole dei Gesuiti, avevo studiato filosofia e mi interessava a un certo punto studiare il cristianesimo. Mi imbattei nell'Istituto per le Scienze Religiosi di Bologna, diretto da Giuseppe Alberigo, fondatore Dossetti, e quindi poi lentamente mi sono orientato verso i studi biblici. Il tema dei Dialoghi 2012, incontrare oggi Gesù Cristo, però in particolare nella prima serata si cerca di rispondere a un interrogativo molto grosso. Che cosa ci dice la storia appunto su Gesù di Nazareth? Siamo nel tempo di Pasqua, partiamo dalla fine di questa storia, che poi è la pietra miliare della religione cristiana, il sepolcro vuoto, la Pasqua, nella sua ricerca in quali risultati si è imbattuto o ha, diciamo, sedimentato? Ma certamente gli eventi finali della vita di Gesù, la storia della passione, l'arresto, la morte, poi gli eventi delle apparizioni, del risorto, sono al centro degli studi. Penso che la cosa più drammatica sia quello di vedere proprio gli ultimi atti, a cominciare per esempio dall'ingresso trionfale, cosiddetto trionfale di Gesù a Gerusalemme, in cui sembra quasi che Gesù proponga l'inizio del Regno di Dio, il Re Messia che arriva a Gerusalemme, e poi invece le cose vanno a finire in una maniera che nessuno si immaginava. E quindi il dibattito oggi fra gli studiosi e fra chi sostiene che Gesù non voleva forse morire, non si aspettava quello, gli altri invece che dicono che Gesù fin dall'inizio si aspettava e desiderava questa fine drammatica, perché da questa poi sarebbe riuscito ad arrivare il Regno di Dio che lui sperava. Quindi è certamente questo il punto più difficile e anche più affascinante della ricerca.